Nuove opportunità per le startup del territorio. E' questo lo spirito con cui lavora NaStartup, un acceleratore che mira ad essere una vera e propria palestra in cui le nuove attività possano crescere, creare contatti e trovare supporto valido per i propri progetti. La missione di NaStartup ha fatto tappa alla stecca. Qual è lo spirito di NaStartup? NaStartup è un progetto stupendo perché nasce tutto dal bus, quindi non ci sono appunto finanziamenti esterni, è tutto fatto dalla community. Cosa facciamo? Noi ogni mese, prima con l'offline, adesso purtroppo con l'online a causa lockdown, mettiamo in connessione delle persone che hanno progetti innovativi. Le mettiamo in connessione attraverso una rete, una rete di NaStartup che adesso conta addirittura 7000 membri, una startup è al settimo anno, quindi è un evento storico. Mettiamo in connessione in questa rete esperti, quindi finanziatori, esperti di marketing, esperti di design, esperti di app che appunto supportano i progetti innovativi e li aiutano a sbocciare, oppure proprio nel termine tecnico, accelerare. Le startup ci presentano i loro progetti e tramite la nostra community le acceleriamo. La startup che inoltre condividerà di più il progetto online dopo l'evento vincerà un premio e il premio è l'officina delle startup. In che cosa consiste? Una serie di esperti aiuteranno la startup laddove ne ha bisogno, quindi ci saranno esperti per quanto riguarda la finanza, esperti per quanto riguarda la parte tech, insomma abbiamo una vasta gamma di collaboratori che partecipano con noi e cerchiamo di dare il meglio alle startup per farle diventare una realtà appetibile. Un progetto tutto al femminile, dicevi? Siamo al momento tre advisor donne, sono io, Barbara Feluca, Brigida e Federica e al momento ci stiamo occupando noi di interagire con le startup e di creare le connessioni. Questo acceleratore quindi rappresenta appieno l'idea di un incubatore come la Sticca. Noi siamo felicissimi di ospitare questo appuntamento del Na Startup Play perché incarna perfettamente quello che è il nostro modello organizzativo e operativo. È un contenitore di professionalità, di opportunità di sviluppo per le startup e quindi per noi rappresenta la possibilità di implementare un altro nodo della nostra rete per cui da una parte siamo felici di essere partner e di ospitare l'evento, dall'alto siamo felici di far conoscere la nostra struttura anche alla platea di Na Startup.